Isa Daniele a Villa Mare, come ha trovato questa località? L'ho trovata molto molto bella per la verità, è stato il mio primo giorno di bagno, come si suol dire, perché finora non ero ancora andata al mare, un po' perché avevo avuto da fare, e un po' perché era troppo pieno di gente. Qui, quando sono arrivata qua, ho visto questa bellezza e devo dire la verità, sono stata molto molto contenta. Si è lasciata tentare? Eh sì, ho detto sì, mo ci vada, mo ci vada. O mo o mo? O mo o mai più. E quindi no, è bellissimo, ma poi è bellissimo questo, come dire, questo posto, è meraviglioso per come è fatto, sono proprio contenta di essere venuta a fare una cosa che poi oltretutto mi piace, al momento in cui insomma... Vabbè, perché lo spettacolo, il teatro, il cinema, insomma è la sua vita, ma nel Cilento c'era mai stata o è stata la prima occasione? Ovunque, no? Il Cilento l'ho girato, diciamo come tutte le cose della vita nostra qui in Italia, voglio dire, l'ho girata tutta quanta. C'è un posto che porta nel cuore? Perché appunto lei con i suoi spettacoli è stato in giro per l'Italia e non solo, ma c'è un posto che ricorda con affetto? Ma io, vabbè, stranamente ricordo con affetto uno spettacolo, due spettacoli anzi che ho fatto, come dire, non in Italia, e mi è rimasto veramente, insomma, sono stata felice di farlo e quello mi è piaciuto assai, però devo dirgli la verità, qua per esempio è stato bellissimo, per me è stato bellissimo. Non lo dice perché è qui? No, 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 l'ho detto anche ai miei amici, insomma, a chi mi ha dato la possibilità di venire qua da voi, eccetera. Che cosa l'ha colpita? No, innanzitutto la gentilezza, la bellezza del luogo e anche ovviamente il modo di come ci hanno, dico ci hanno perché i miei colleghi stanno, non sono attori, però c'è per esempio la persona che mi ha portato qua, ecco, che io non ero mai venuta, c'è mio marito, insomma, è l'altro, come si chiama quell'altro signore, quel ragazzo, io lo chiamo ragazzo perché è proprio Axel, ecco sì. Il coordinatore artistico. Molto, molto, molto simpatico, sì. E voi, voi che ci avete accolti in tutte le maniere più belle. Per questo poi vi siete trattenuta anche nel dopocinema gastronomico, insomma, a cena, con tutto lo staff, non si è allontanato. Io non so stanotte a che ora sono andata a letto, però devo dire, mi sono divertita molto, sono stata bene, e soprattutto il pubblico che mi ha affascinato, devo dire la verità. Non mi aspettavo tanto, tanto amore. Ma vabbè, non l'aspettava perché? Lei lo sa che è riconosciuta. Non me l'aspetto mai, non me l'aspetto mai, ho paura sempre di rimanerci poi male. E allora, come bene, bene, io faccio l'attrice, loro mi guardano, se va bene, va bene, se ne ho pazienza, che già fa. Però, però, insomma, è stato bello ieri, c'era un sacco di gente. Io sono stata seduta davanti e dietro a me non sapevo quanta gente ci stava. È stato bellissimo. E ho visto che rideva, non sorrideva, con Gigi e Ross. Sì, quelle due ragazze sono molto bravi, mi hanno fatto morire il risato, veramente, sono molto contenta, sì. Lei ha dato anche del suo al festival con un breve monologo. Sì, spero che sia piaciuto, quello era un momento di Napoli milionaria che avevo, diciamo, lo faccio come se fossi io il grande autore che l'ha scritto, perché l'ho fatto anche, l'ho fatto nella mia vita. E quindi ho pensato che era bello fare la parte di Edoardo e quindi è così, è così ho fatto. Perché lei è stato Edoardo che l'ha avviata in questo mondo, Filippo. Ho cominciato ancora, prima ho cominciato proprio con, come si dice, con le prime cose che si fanno, la sceneggiata, ho imparato a ballare, a cantare, eccetera, prima di arrivare da Edoardo. E poi quando ci sono arrivata non mi sono più mossa per cinque, sei anni. E poi sono dovuta andare anche altrove, perché altrimenti non potevo rimanere a fare solo l'attrice napoletana. E quindi sono stato con Streller, sono stato, insomma ho fatto tantissime cose, ricordarmeli tutti. Ha studiato? Comunque ha dovuto studiare? Studiare proprio no, però sul posto, senza, sì, mai sono stata, non sono mai andata in una scuola. I soldi di Get Never, non c'erano e quindi ho dovuto fare tutto da sola. Però poi insomma a un certo punto mi hanno cominciato a chiamare loro a me invece di andare io. Ma come è iniziato? Lo so che è lungo adesso, però facciamo una sintesi. A che età? Io ho cominciato, che avevo, ho cominciato in collegio a recitare prima di tutto, perché io avevo, stavo in collegio, mia madre lavorava pure lei, perché anche lei era un'attrice. E quindi poi lei, mia madre non voleva che io facessi questo mestiere. Perché lei aveva un, diciamo, un modo di essere molto, molto, insomma, come dire, aveva avuto troppe persone che non le hanno volute bene. La madre era molto bella, cantava e recitava. E quindi io però sono nata proprio con questo, io così sono nata, io sono nata in un teatro. Quindi proprio là, mia madre era incinta e si tirava delle cose. E praticamente quando io poi sono nata, io come tanti altri bambini delle compagnie, stavamo ridendo, si metteva una cosa là, diciamo con un letto, si va per dire. Vabbè, e quindi la nostra vita cominciava così, parlo dei bambini e delle bambine che hanno fatto poi questo. E quindi io ce l'avevo nel sangue, non ce l'ha dato. Lei ha detto sul palco, io sono nata per fare l'attrice e quello ho fatto. Non devo fare altro, no, 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 infatti proprio ho dedicato a mia madre, oh non ne parliamo, perché poi, diciamo che momenti brutti si passano pure nel, devi fare la tua carriera, insomma. E io però l'ho fatto, con molto, mi sono, ero abbastanza forte, perché certo facile non è stato. Poi ho avuto l'occasione di, perché io mandai una lettera a Edoardo De Filippo, che mi parlavano di questo Edoardo De Filippo, io tenevo 13 anni, 14 anni, e dicete, ma chi sti chiede? Ma perché? Oh ma quello sapessi come è bravo, e tutto, insomma mi fecero capire che io l'avrei imparato più di quanto potevo fare con la sceneggiata, che non so se voi sapete cosa era la sceneggiata. La sceneggiata? Vabbè, no, no, la sceneggiata era un gruppo di attori che facevano, da una canzone facevano nascere un testo, e poi lo facevano, no, e io ho fatto anche quello. Diciamo che molti di noi hanno cominciato a quell'epoca così, e poi piano piano o si sono avvicinati oppure se hanno finito, insomma, e invece senti parlare di questo Edoardo De Filippo che era praticamente il capo di questa compagnia e faceva uno spettacolo al giorno, io invece ne facevo tre con la sceneggiata, e faceva un amico, un spettacolo, che bello. Insomma, per non portarla da lunghi, gli scrissi una lettera, come si dice, ero bambina veramente, aveva 14 anni, non di più, e scrissi e gli ho saputo che lei è un attore straordinario, bellissimo, tutto qua, io vorrei tanto imparare qualcosa da voi, e quindi fatemi sapere se posso venire, vabbè, perché mia madre non lo sapeva che io avevo fatto stare. Anche di nascosto. Perché forse mi avrebbe anche detto, forse non scrivere così, scrivi, invece sono proprio come una bambina veramente, e invece mi telefonò, come si dice, la persona che si preoccupava di Edoardo, insomma, faceva le paghe, e tutte queste cose qua, e quindi mi, 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 no, 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 mi convocò, signorina, lei può venire oggi pomeriggio, è una piccola parte, perché quella che doveva farla sta male, non può venire, però è una ragazza, quindi se lei può venire, Napoli e Milonari stavano facendo, loro, che poi l'ho fatta dopo tanti anni, e praticamente era una piccola parte, però io non sapevo cosa significasse stare in un teatro dove tutti zitti, facevo la sceneggiata per la gente, vabbè, voi siete più popolari, insomma, ma una cosa veramente, non ne parliamo proprio, e per me fu una cosa straordinaria, poche battute erano, quelle poche battute però, mi accorsi che quando lui mi spiegò come le dovevo dire, e io lo feci, lui si mise col sorrisetto a dire, questo va buono, l'ho capito dopo, promosso subito, e così sono stata con lui per molti anni, e poi ho dovuto cambiare, perché dovevo imparare a cantare, volevo imparare a ballare, volevo fare... Però la sua storia ci fa capire ai giovani che ci stanno seguendo, che non bisogna scoraggiarsi, non avere paura, avere il coraggio di dire le cose che si pensano, però... Io ero decisa a fare questo. Non si è trattenuta a scrivere una lettera, anche se è bambina, l'ha fatta? L'ho fatto, l'ho fatto, perché io, vabbè, poi non sapevo di lui che era... Per me era un attore che aveva una compagnia, e come era quello dove stavo io in quel periodo, quindi una persona che decideva, e io mi dico, come tutti, ma sapessi com'è bravo, quello qua, quello qua, il mostro del teatro, devo andare là, assolutamente, e così fai successo. Poi da lì si sono aperte mille porti. Sono successe altre cose, sì. E invece parliamo di Isa Danieli, come... Isa Danieli, la persona, che persona è? Come mi vedete, così mi scrivete. Non sono né in più né in meno. Ma lei come si descriverebbe? Beh, io... no, non mi descrivo. Persona semplice... Sì, quello senz'altro, anche perché durante la mia vita ho sofferto anche proprio perché ero sola, perché mia madre poi era morta, e insomma mi sono dovuta fare tutto da sola, un poco, insomma... A suo padre? Mio padre? Eh, quella è un'altra storia. Mio padre esisteva, ma io non lo sapevo. E sarebbe troppo lungo a raccontare. Poi era un fatto che è successo a mia madre. L'importante poi, alla fine, io poi l'ho conosciuto, però purtroppo se ne è andato via presto lui. E invece una domanda di politica. Che vogliamo dire della politica nazionale in generale, italiana, no? Non quella attuale, passato, presente. Non mi è interessata veramente nel... Ci bisognerebbe qualcosa a fare, per esempio, di più per il Cino, il teatro, il spettacolo? Sì, sì, dovrebbe, certamente, senz'altro quello, perché prima era meglio di adesso, io devo dire la verità. Meglio di adesso, perché adesso ci stanno un sacco di gente che fa questo mestiere, un sacco di gente che filma le cose, questo, quell'altro. E Ian Bebe però non è più come una volta. Manca la qualità. Manca la qualità, sì. Una parte della qualità manca, è vero. Allora, come ci vogliamo lasciare? Può recitarci una battuta, qualcosa che... Ma no, l'improvviso, seduto su un divano, mentre se ne sta per andare. Non me lo potete fare di dire? No, allora posso... Ma penso che Isa Danieli non ha problemi. Tra i tanti, i copioni... Ecco qui... Ah, no, su Napoli, qualcosa su Napoli. Napoli, 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 Napoli... Ma intanto chi è? C'ha un attore preferito, un attore, un attrice, un cantante? Qual è il personaggio che più... Uno proprio no. Parecchi, parecchi, sì. Del teatro? Del teatro anche, la stessa cosa, perché poi nel teatro ci stai... Diplomatica, insomma, il nome fuori ancora non ne ha detti. No, preferisco di no perché poi si vigni coloranate. E allora è meglio no. È meglio non sbilanciarci. E allora salutiamo la Napoletana. Salutiamoci così, va. Grazie innanzitutto. Voglio ringraziare questo albergo, tutti quelli che ci appartengono. E grazie anche per le mie persone che stanno con me, mio marito e la signora che mi ha portata qua. E spero di poter ritornarci appena... Lei vive a Napoli, no? Io sì, vivo a Napoli. Ci può seguire, eh? Canale 115, lo faccio apposta per... Eh, lo devo dire a mio marito perché lui è bravo in queste cose. Io no, no, no. I numeri alla TV li segna lui. Ecco, bravo. Ma dopo ce lo dico di segnarsi, di iscriversi. E poi ci seguirai. Magari ce lo farà sapere. Come no, come no. Grazie a Isa Danieli per essersi prestata per questa intervista per il Tg Estate. E sì, un bocca al lupo per tutto quello che verrà. Sicuramente è ancora impegnata con l'arte o no? Eh, sì. Io spero che questa cosa possa accadere per quest'anno. Non ancora niente. Però, anche perché... Mo ce me lo posso permetterlo. Se questo lo voglio fare, questo lo... No, quindi puoi scegliere. Grazie.